Il bancone del Moulin Rouge è ristrutturato da un artigiano pellettiere torinese premiato dalla Camera di Commercio per la fedeltà al lavoro, ma manca il ricambio generazionale. E ora vi raccontiamo di un artigiano pellettiere di Torino premiato per la fedeltà al lavoro dalla Camera di Commercio. La sua storia cominciò con il restauro della stato del cavallo di Carlo Alberto all'Armeria Reale, poi arrivò la commessa per rifare il bancone del Moulin Rouge di Parigi, in servizio di Caterina Canavacca. Sono passati 35 anni e non me ne sono neanche accorto, ne avevo 24 quando sono entrato. E' uno dei premiati della Camera di Commercio di Torino come fedeli al lavoro, perché il suo laboratorio di pelletteria ha clienti in tutto il mondo, perfino luoghi leggendari di Parigi. Sì, Moulin Rouge è stato un colpo di fortuna che tra l'altro si è presentato il 21 dicembre di qualche anno fa e la consegna doveva essere fatta entro il 4 gennaio. Ed è stata una bella esperienza perché era qualcosa di nuovo mai fatto e abbiamo fatto il bancone della reception collaborando con i faregnami, tutto rivestito in pelle. Una vita di lavoro, di passione e di grandi soddisfazioni. Quella a sorpresa del ministro dell'agricoltura tailandese, perché ha questi due borsoni particolari, ha mandato l'addetto dall'ambasciata che non ritornerà mai più con sua moglie, perché era venuto sotto Natale e gli ha fatto un sacco di ordine che glielo ho spedito poi giù all'ambasciata. Il lavoro non manca, anzi, ma tramandarlo ai più giovani non è facile. Il lavoro ce n'è, quello che manca è la possibilità di iniziare tranquillamente, soprattutto per i giovani così, e l'esperienza te la fai lavorando. Il problema è che se non inizi diventa difficile ed è difficile anche per noi riuscire ad avere dei ragazzi in bottega per insegnargli. E tipo questo negozio qua io non posso avere nessuno dentro perché è troppo piccolo. Crea il prodotto in base alle esigenze del cliente, ma anche alla sua personalità, un'arte di artigiano che coniuga creatività e personalizzazione. Chi fa questo lavoro deve essere creativo. Se tu riesci a esprimere la tua creatività, cioè le soddisfazioni arrivano. Basta solo credere in quello che uno...